di fila, adesso c'è Marco Ceron in lunetta, perde con la partita decisamente peggiore della stagione per 40 minuti o meglio 38 minuti e 15 secondi, intanto Ceron fa 2 su 2 dalla lunetta non è mai entrato in partita, segna il tiro libero Henry, ultimi possessi della partita con Michele Ruzier che trova l'assist in angolo, il tiro da 3 punti di Marco Ceron che sale a quota 5